Siamo diventati figli di Dio. Ci è divenuto quasi abituale e naturale considerarci figli di Dio e chiamare Dio nostro Padre e forse non ci rendiamo conto della nostra straordinaria grandezza. Già qualcosa, compreso le anime del PIE dell'Antico Testamento, come lo attestano alcuni libri dei profeti e dei salmi. O Signore, Tu sei il nostro Padre e noi siamo un impasto di creta. Tu sei che ci hai impastati e noi siamo tutti opere delle Tue mani. Ma il Nuovo Testamento chiama ciascuno di noi i redenti, li chiama figli di Dio in un senso assai più profondo. Gesù, che ama esprimersi in parabole, ci narra in modo meraviglioso la storia della nostra redenzione nella parabola del figlio prodigo. Perché può capitare, o meglio una cosa che ritorna spesso, che quando noi consideriamo le nostre mancanze, i nostri peccati, possiamo anche dire sì, siamo figli di Dio, ma siamo peccatori e Dio ci punerà e Dio ci metterà fuori dal suo regno. E Gesù invece racconta la parabola del figlio prodigo, del figlio che dissipa i beni del padre, che disprezza il padre, va via dalla sua casa, non ne vuol più sapere della sua influenza paterna, vuole essere libero. E poi si trova a pascolare i maiali, i porci, e non aveva da mangiare se no le carrube che rubava i maiali. E poi ripensa e ripensa, ritornerò da mio padre, non come figlio ma come servo, come schiavo. E il padre lo vede da lontano e gli corre incontro. Il figlio si getta ai suoi piedi, il padre lo alza, lo abbraccia. Io non sono degno di essere chiamato il tuo figlio. E il padre dice ai servi, portate il vestito più bello, portate l'anello. Questo figlio ingrato si era venduto anche l'anello, il segno della libertà, il segno di un uomo libero. Si era venduto tutto, anche la dignità. E il padre rimettetela nell'addito. Ammazzate il vetello grasso, facciamo festa. Ecco allora la differenza dell'azione dell'uomo peccatore che si incolfa nel rifiutare anche perdone di Dio e Dio padre che abbraccia il figliuolo che ha anche sbagliato, ma è sempre figlio suo. E noi possiamo allora gridare con sincerità e con amore, padre nostro che sei nei cieli. Gli apostoli traducono il parlare simbolico di Gesù esponendole in forma dottrinale. Noi siamo nati da Dio, partecipe della divina natura. Noi abbiamo ricevuto la pienezza di Cristo, siamo e viviamo in Cristo. Noi siamo in comunione soprannaturale di essere e di vita con Cristo, l'unigenito di Dio. Siamo quindi misteriosamente introdotti nella sua relazione filiale col padre. Con lui e per lui siamo figli di Dio. Non certo come lui, ma certamente siamo figli di Dio. Figli adottivi, con diritti e doveri. Per cui quanto un giorno io andrò a bussare alle porte del paradiso e se Pietro mi dice no, tu non entri perché sei un peccatore, io posso dire io sono figlio di Dio, figlio adottato, con diritto e dovere. Ho il diritto alla mia proprietà che Dio mi ha dato, la sua vita divina. chiudo con un ricordo storico. La figlia del re Luigi X V di Francia, re di Francia, alla sua perpetua che l'aveva rimproverata di scatto dice ma non sai che io sono la figlia del re. Bene, tu sei la figlia del re. Però ricordati che tu e io siamo figli di Dio, che è molto più grande del re di Francia. Ecco la grandezza a cui la crocifissione, la passione e la risurrezione di Cristo ha portato a noi suoi figli sbagliati ma sempre figli prediletti da Dio.